Al via da martedì 2 febbraio i tanto attesi lavori di ripristina e messi in sicurezza del braccio di prolungamento del molo nord danneggiato dalle mereggiate del gennaio 2017 del porto di Giulianova. E' quanto scaturito dall'incontro tra il nuovo presidente dell'ente porto Valentino Fabrizio Ferrante e dall'amministratore delegato della ditta che seguirà gli interventi. C'è stato un incontro all'interno dell'area portuale con il provveditorato alle opere pubbliche che è il gestore dell'intervento e con la ditta schiavo di Napoli che sta realizzando l'intervento. Proprio ieri c'è stato questo incontro con i responsabili della capitaneria di porto per mettere a punto il sistema di tutte le prescrizioni di sicurezza per poter avviare di nuovo il cantiere. La prima priorità ovviamente è quella di rimettere in sicurezza tutta l'area e i lavori che sono stati fatti finora. L'impresa come primo step procederà con la sistemazione del fondale dove quattro anni fa si creò il cedimento dei massi, lavori che dovrebbero terminare prima dell'estate. Per il 2 verranno consegnati i lavori. Dall'8 dovrebbero iniziare i lavori veri e propri con una prima parte che durerà probabilmente una settimana, 15 giorni per la messa in sicurezza del cantiere e quindi rendere sicure le aree portuali. E successivamente ci sarà l'inizio dei lavori veri e propri che prevede il completamento della messa in sicurezza della zona franata del nuovo braccio. I lavori dovrebbero presumibilmente durare un paio di mesi, parlando con la ditta Schiavo, fermo restando i problemi legati al Covid. Però presumibilmente per l'estate dovrebbero essere consegnati. Successivamente già sono stati stanziati i fondi per il completamento del braccio. Quindi questa prima parte riguarda la messa in sicurezza di quello già realizzato. Successivamente verranno avviati anche i lavori per la realizzazione del prolungamento e quindi il completamento dell'opera.